A Montemurlo nel 2020 gli incidenti stradali si sono dimezzati, nessuno è risultato mortale. Su un totale di 49, solo 17 non hanno riportato feriti. Sul fronte delle sanzioni il primo posto tocca la rimozione delle vetture durante la pulizia delle strade, seguite dall'eccesso di velocità e dall'omessa revisione. I dati sono positivi perché oltre al numero di incidenti c'è un numero importante di calo di feriti, di coinvolti, quindi nessun esito mortale, vuol dire che la sicurezza stradale è migliorata quest'anno a Montemurlo. Un lavoro fatto dai 18 agenti della Municipale che crescono per numero ma restano sempre senza comandante, anche se temporaneamente il posto è occupato dal segretario generale Vera Aquino. Ed è in corso una procedura selettiva per l'individuazione di un comandante che arriverà a definizione nel corso delle prossime settimane con la nomina di un comandante del Corpo di Polizia Municipale. L'attività della Municipale si è anche concentrata sul rispetto dei vari DPCM pubblicati nel corso dell'anno. Sono state svolte verifiche su 1.396 persone riferite appunto ai controlli Covid e fortunatamente il dato positivo è quello che ci sono state solamente 42 violazioni accertate. La Municipale ha anche continuato a lavorare al progetto Equità. La presenza dei nostri agenti insieme agli ispettori di Soria hanno consentito in 32 controlli di andare a recuperare circa 65.000 euro di tributi non pagati, in particolare i tari. Sono continuati per tutto l'anno anche i controlli sulle attività produttive. I controlli fatti non hanno anche evidenziato violazioni di nessun tipo sia negli esercizi commerciali sia negli attività produttive. La comunità cinese a Montemul è molto molto attenta.